Nella parte di Catania c'è il completamento dell'anello dei nuovi ospedali della città e dell'Interland, siamo a metà dell'opera del nuovo grande ospedale San Marco che si trova a Librino, a Catania cosa si pensò 25 anni fa? Si pensò essere realizzato in questi anni, l'ospedale di Librino, questo ospedale San Marco arriva in ritardo perché è stato un lungo condensioso con la ditta che vinse la prima gara e che ora si è sbloccato definitivamente, è completa l'anello di una serie di ospedali che stanno nella immediata periferia della città, questo cosa comporta? Che Catania avrà soltanto ospedali moderni e li avrà un po' in periferia, non più ospedali al centro dove era proibitivo visto il traffico e non solo arrivare e parcheggiare, ma bensì ospedali modernissimi dotati di parcheggio, qua ci sarà anche un piccolo albergo con 20 stanze per i parenti dei pazienti, una ortopedia di eccellenza o eccellenza ortopedica con 16 posti per la riabilitazione e devo dire una costruzione non solo antisismi ma avanzatissima sul piano dell'architettura e dell'edilizia ospedaliera più moderna e più avanzata. Questa è la novità di questa trasformazione che è una cosa epocale, mi auguro che in una decina d'anni, ma perché no anche in 5, questo possa capitare a Palermo e in tutte le grandi città, in tutte le grandi aree perché al posto dei vecchi ospedali ci siano dei nuovi ospedali. Ora per esempio bisogna correre perché quel grande involucro inutilizzato che è stato l'ospedale di Lentini, quello che si trova sulla collina della circomballazione di Lentini, venga completato con le sale operatorie e con altri impianti e con la ristrutturazione di alcune parti dell'edificio perché penda il posto del vecchio ospedale, così dovrà essere per Ragusa, come per Siracusa, come per Trapani, come per Messina, Agrigento, nuovi ospedali fatti bene, non col cemento indebolito o impoverito perché la sanità e i servizi sanitari vengono ospitati in edifici nuovi, moderni che possono accogliere al meglio i nostri cittadini nel momento del bisogno della cura e dell'assistenza sanitaria.